Back in ETV Ciao a tutti, benvenuti ai Balconi TV Schio Oggi qui con noi i Pidduk and the Kultons con il brano Break the Chain Buon ascolto 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 in versione acusticheggiante super rivisitata bella bella, un'altra domanda non so, gli ascoltatori i visitatori di Balcony, dov'è che vi possono guardare nei social network? avete la pagina facebook? esatto, sicuramente sulla pagina facebook Piduc and the Coulthons dalla quale si possono trovare tutti i vari link ai social tra cui appunto Soundcloud in cui si trova l'album si può scaricare e ascoltare liberamente perfetto, grazie un caro saluto da Balcony TV Schio ciao